Anatomia. Apparato cardiocircolatorio. Pericardio. Col termine pericardio indichiamo la guaina fibrosa che avvolge il cuore. Si tratta di una struttura fibrosierosa, il cui ruolo è quello di separare il cuore dagli altri organi e evitare che contraendosi sfreghi contro gli altri organi danneggiandosi. Parliamo di struttura fibrosierosa perché il pericardio presenta due strati. Abbiamo un pericardio fibroso e un pericardio sieroso. Il pericardio fibroso è quello che osserviamo in questa immagine che continua a ricoprire anche la base dei grossi vasi. Da esso si distaccano dei legamenti di cui tra poco parleremo. Il pericardio sieroso invece è una sottile lamina di mesotelio che ricopre la superficie esterna del cuore e si chiama foglietto viscerale e corrisponde all'epicardio e la superficie interna del pericardio fibroso e si chiama foglietto parietale. Il foglietto parietale si continua nel foglietto viscerale a livello dei limiti del pericardio, cioè all'inizio dei grandi vasi. Questo fenomeno di continuazione di un foglietto nell'altro si chiama riflessione. La cavità che si forma tra il pericardio sieroso viscerale e il pericardio sieroso parietale è detta cavità pericardica ed è costantemente piena del liquido pericardico, un ultrafiltrato del sangue, il cui volume è di pochi cc e la cui funzione è quella di lubrificare la cavità in modo da evitare sfregamenti con il cuore. E osserviamolo quindi il pericardio fibroso. Ricopre molto fedelmente il cuore. La proiezione del pericardio sulla parete toracica si chiama aia pericardica ed è leggermente più grande dell'aia di proiezione cardiaca. Molto interessanti sono i legamenti che si osservano nel pericardio. Il legamento sterno pericardico superiore origina all'incirca in corrispondenza dell'atrio di destra e si porta in alto fino ad arrivare al manubrio dello sterno, posteriormente. Il legamento sterno pericardico inferiore origina dall'area del pericardio che corrisponde alla parete anterolaterale del ventricolo destro e si porta in basso per inserirsi sull'ultima parte del corpo sternale, longitudinalmente. I legamenti pericardiofrenici si dividono in anteriore e posteriore. Essi connettono il pericardio al diaframma, al centro frenico per la precisione. Quello anteriore lo fa per la gran parte della superficie cardiaca. Quello posteriore lo fa solo in corrispondenza del solco atrioventricolare posteriore. Altri due legamenti pericardiofrenici interessanti sono il sinistro e il destro, che collegano la parte posteriore del pericardio in corrispondenza della parete posteriore degli atri con il centro frenico del diaframma e al loro interno includono anche le strutture vascolari e bronchiali che si possono ritrovare in questa posizione. Ultima coppia di legamenti del pericardiofibroso è costituita dai legamenti pericardicovertebrali. Quello anteriore parte dal solco interatriale nella sua porzione più anteriore e quello posteriore invece parte dalla parete posteriore dell'atrio destro e dalle strutture vascolari che adesso sono adese. I due legamenti si uniscono lungo la trachea e vanno a collegarsi al corpo vertebrale delle ultime vertebre cervicali. La funzione dei legamenti pericardici nell'insieme è quella di mantenere il cuore in asse, poiché la sua funzione dipende anche dal mantenimento della sua posizione. Questo video è stato girato con Anatomy Learning, un interessante web app il cui link lo trovate in descrizione.